Il Vesco fa sedere il nuovo parco nella sede centrale, in modo che questo simbolo prende figliamente il possesso della presidenza di questa comunità parziale. Così come il Vesco non viene ordinato nel lato sedere nella Carta, anche il lato nel lato sedere di questa sede è la presidenza della celebrazione delle manifestie, il cuore del nostro stare insieme e del nostro camminare insieme. Grazie.